Grazie a tutti. Oggi si fa campagna elettorale citando vicende di un secolo fa e allora proprio per questo è opportuno conoscerle quelle vicende ma conoscerle non in modo superficiale ma approfondito sulla base di ricerche storie serie e non di ricostruzioni, ripeto, superficiali per cercare di comprendere le ragioni degli uni e degli altri e solo così forse a distanza di un secolo si potrà ritrovare la strada per arrivare a superare quelle ferite che da troppo tempo ci portiamo dietro. È stato un periodo doloroso perché troppe famiglie da una parte e dall'altra hanno sofferto e quindi ecco spiegato il motivo per cui per anni di certe cose si è preferito poi non parlarne più. L'Italia, soprattutto la Liguria, la Savona, la Vado Ligure di allora erano località fortemente industrializzate, il paese usciva da una guerra mondiale. C'erano delle ideologie, oggi invece la politica si fa più a livello personale però così come allora c'è ancora una grave crisi economica, inflazione, ci sono degli elementi allarmanti dal punto di vista anche dell'odio verbale, quantomeno sui social, che sono campanelli d'allarme di cui secondo me dobbiamo tener conto perché quell'epoca fu un'epoca caratterizzata poi dalla violenza che da verbale diventò fisica. Secondo me nei confronti dei giovani, delle giovani generazioni che devono essere fatte queste iniziative per far comprendere loro il valore della storia perché forse non è stata sufficientemente valorizzata in questi anni anche dai governi che abbiamo avuto. Grazie a tutti.